E via, veloce, via! Questa la postiamo su Facebook e tagliamo il nonno, la zia e le amiche di mamma. Eccoci! Mamma scatta! Amico mio, ho una nuova bambolina. Faccio lo screen e te la mando in posta. Sulle giostrine sei bellissima, vediamo, vediamo. Amore, questo è proprio da Instagram, però. Questo parco lo conosco. Massimo? Massimino? Massimino? Ti ho mandato un messaggio su WhatsApp, l'hai visualizzato ma non hai risposto. Guarda, guarda, se noi tagliamo tutti quanti, riusciamo a... Ciao piccolina, ti presento un mio amico. Ti piace? Vuole giocare un po' con te. Dice che sei una brava bimba, è vero? Ragazzi, complimenti. Avete una figlia bellissima. Grazie mille. Educato il signore. Mia sorella non ci tocca. I vostri bambini non sono dei link. Non condivideteli.